Una manifestazione nel centro di Kemerovo in Siberia per chiedere le dimissioni delle autorità cittadine e regionali responsabili di non avere vigilato sulle misure di sicurezza nel centro commerciale finito in fiamme. Nel mirino della protesta c'è Aman Tuleyev, governatore della regione del Kuzbas e politico già dai tempi dell'Unione Sovietica. Tuleyev, da tecnico dei trasporti negli anni 80 e 90, diventa candidato alla presidenza russa nel 91, nel 96 e nel 2000. Eletto governatore per la prima volta nel 97, Tuleyev è riuscito a restare al potere, nonostante le grandi tragedie avvenute sotto la sua gestione amministrativa. Nella regione di Kemerovo nessuno ha ancora dimenticato l'incidente in una miniera, avvenuto nel 2010 e costato la vita a 66 minatori. Anche allora la strage di lavoratori fece travare il potere, ma Aman Tuleyev riuscì a mantenere il posto.